Dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, Restate Leporanese è una serie di eventi per tutti i gusti, per tutte le sensibilità e non si potevano non accontentare i giovani, gli amanti della discoteca, ecco qui a Leporano il Summer Show con i DJ di Radio Norba Sì, abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità nell'ambito della rassegna Restate Leporano abbiamo voluto proprio inserire una serata per i giovani, ci inseguivamo come diceva Carlo Gallo da tempo questo momento è arrivato e condivido un pensiero che ha detto Carlo Gallo, dedicato ai giovani di avere rispetto della propria vita, di non bere durante le serate in discoteca e di vivere la vita diciamo anche questa sera qui a Leporano con Restate Leporano Grazie a tutti!